ci siamo ci siamo mi stanno chiamando dal Giappone in questo momento sono entrato in diretta in questo momento e lui mi chiama dal Giappone Jin Yasufumi quindi speriamo che vabbè qui abbiamo qui c'è se metto il telefono in orizzontale ok mi tocca metterlo così altrimenti che strano mi fa un effetto strano no è così è giusto forse perché c'è Emanuele ti chiedo di stare un po' guardare lo schermo del telefono perché mi sta chiamando Jin da Giappone e se lui chiama e poi si interrompe un po' la diretta bisogna mettere schiacciare il dittino sulla X nel caso ok ma giusto ogni tanto dai uno sguardo io me ne accorgo c'è sulla sì è posizionato bene allora buongiorno c'è qualcuno c'è qualcuno non vedo niente qua date un segnale non vedo nessuno in diretta cosa strana e io aspetto qui vediamo un po' che succede vediamo un po' che succede commenti ah ok bene bene ci siamo allora posso iniziare posso iniziare col dirvi oggi trattiamo un argomento che non ho mai trattato è quello di modellare e dare diciamo una costruire un bonsai partendo da una pianta che possiamo definire nelle sue caratteristiche principali bunjin cioè letterati uno stile uno stile che a livello bonsaiistico viene dichiarato come difficile perché perché è difficile o complesso perché a livello perché nel bonsai siamo abituati ad avere delle regole nella vita siamo abituati ad avere delle regole in ogni cosa tutto il mondo che ci circonda guidiamo la macchina ci sono delle regole quindi mettiamo il caso che arrivi un comunicato e si dica bene domani si potrà girare in macchina nel paese senza regole cioè tutte le regole che voi conoscete non ci sono più fai come ti pare e quindi cosa succede sarebbe un po' già solo la notizia ci metterebbe paura perché dice allora dovrò dare precedenza a destra a sinistra non dovrò dare precedenza potrò sorpassare da destra potrò passare col rosso al semaforo cioè ok quindi questa cosa solo questa idea parlo a livello ideale questa idea ci scombusselerebbe tutto siamo abituati a vivere in un mondo non ce ne rendiamo conto di regole quindi la mattina ci alziamo siamo abituati cioè ci hanno spiegato a livello italiano si mangia dolce da altre parti si mangia l'uovo strapazzato da altre parti si mangia il salame piccante da altre parti non si mangia nulla quindi anche queste sono regole siamo circondati di regole bunjin bunjin è la forma bonsai o dei letterati e poi spieghiamo anche perché dei letterati che più di tutto dà libero sfogo alla nostra immaginazione che più di tutto fa sì che le regole vengano eliminate e noi possiamo essere liberi di dare una interpretazione quindi non ci sono le regole di base e altezza può essere anche lungo il doppio può essere anche basso così un bunjin non ha una dimensione quindi non è uno shoin bunjin non è un mame bunjin non è un dai bunjin dai so i bossai grandi quindi non ha una nomenclatura dimensionale un bunjin è un bunjin è un qualcosa che deve darti la possibilità di ragionare di pensare di immaginare qualsiasi cosa quindi in genere è uno stile molto ridotto a livello visivo etereo cosa voglio dire con una ramificazione molto scarna molto scarsa ma deve essere anche molto fine deve disturbare deve impegnare l'immagine totale il meno possibile è come essere in un ristorante essere serviti da dei camerieri che tu non che tu non 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 mi viene il termine preciso di cui tu non senti la presenza quindi si sei servito però alla fine ti ritrovi il bicchiere pieno il piatto pulito il piatto pieno senza essere disturbato nella conversazione con i tuoi amici quindi una presenza minima però c'è le bunjin è quella presenza minima elegante è un bonsai che c'è ma è estremamente libero etereo nelle forme ora ora andiamo con questa pianta leggermente in contrasto su queste cose che ho detto perché in genere i bunjin non hanno tanta legna secca questa pianta qua invece ha tanta legna secca mi ricongiungo però il discorso che ho fatto prima se è una pianta eterea posso trasformarla in bunjin e visto che è uno stile libero dove l'interpretazione è libera posso anche scegliere una pianta del genere ci saranno delle cose che io faccio dove metto la vegetazione come la faccio crescere quanta robustezza do ai rami pochissima di sicuro dove come in che modo faccio crescere i rami in che vaso lo sistemo che piccolezza di foglie ottengo e in questo caso abbiamo anche tanta legna secca e quindi bisognerà fare in modo di anche in questo caso diamo libero sfogo alla nostra sensibilità oppure a ciò che vogliamo rappresentare o la sensazione maggiore che vogliamo dare grazie alla visione di questa pianta alla contemplazione perché in questo caso un bunjin non lo si guarda un bunjin lo si contempla perché non c'è niente non ci deve essere nulla che vada a impattare in modo esagerato a livello materico la nostra visione ma impatterà la nostra visione non per la materia ma per la non materia per quello che non c'è e quindi per quello che noi immaginiamo questa va scritta questa va scritta ora sono venuto in possesso di questa pianta molto molto eterea molto particolare dopo col telefono vicino vi faccio vedere la sua legna secca naturale che è fantastica io non ho toccato nulla quindi è naturale così è stata sistemata in una posizione vi faccio capire dove ho applicato la regola e come sono riuscito ad applicarla ma senza dare la sensazione che io abbia lavorato troppo quindi posizione in vaso in posizione verticale tecnicamente possiamo notare che l'apice è leggermente fuori asse rispetto alla base questo perché aveva una bellissima curva e poi qui torna sulla parte da voi che state guardando sulla destra quindi abbiamo un andamento verso destra torna sinistra e verso destra quindi il suo movimento generale è verso questo lato chiaro essendo il suo movimento generale su questo lato qui la zona apicale qui abbiamo un tenjin interessantissimo l'ho sistemata leggermente fuori asse non troppo non in asse in asse avrebbe dato una sensazione diciamo di come se il mio lavoro si vedesse cioè una cosa ricercata in asse oppure estremamente fuori asse e quindi non sarebbe stato non sarebbe stato in linea con tutto quello che sto spiegando quindi con la gentilezza la delicatezza con la semplicità quindi la semplicità di questa figura che voi vedete è stata cercata mettendo leggermente fuori asse spostato verso destra e l'apice dando una leggera sensazione di movimento su questo lato qua ora accentueremo accenteruò sicuramente questa cosa darò darò come si può dire lustro e il verde posizionerò il verde in modo tale che questa sensazione non sia stravolta quindi non metterò tutto a destra ma cercherò qui sui rami di andare ad abbellire e ad avvolgere e a graziare questa figura ora viste le premesse abbiamo una doppia possibilità di fronte su questo fronte qui abbiamo la possibilità di mettere in evidenza le parti morte bellissime della pianta quindi se usassimo questo fronte avremo la sensazione di qualcosa di molto forte di molto ci darà la sensazione di sofferenza chiaro sofferenza e poi le piante è una sofferenza nonostante tutto cioè è una vita nonostante le sofferenze quindi la pianta vive però la sensazione sarà quella abbastanza forte di qualcosa che ha sofferto e per diminuire questa cosa bisognerebbe andare leggermente in contrasto col verde cosa che io non faccio quindi spesso vediamo piante super sofferte con un verde molto regolare questa è una cosa che su questa pianta non verrà fatto né utilizzando questo fronte né utilizzando quest'altro fronte piuttosto se uso questo fronte andrò a imprimere delle curve dei movimenti ai rami più sofferti rispetto al rispetto al alla posizionamento del fronte su questo lato quindi se invece utilizzo questo lato e i movimenti che darò alla vegetazione saranno leggermente più lievi più lineari perché su questo lato abbiamo la zona più vitale quindi meno in evidenza ma è meno evidente la sofferenza nonostante ci siano delle note di secco anche qua anche qui qui si vede un pochino però è più evidente la parte di corteccia quindi la parte matura la parte saggia se parliamo di un riferimento con quello che può essere l'umanità intrinseca della pianta ok quindi la scelta la scelta può essere sia personale che pure anche vogliamo dare vogliamo dare una come si può dire una sensazione differente in base anche alle persone che accogliamo a casa e quindi poter è una pianta interessante perché si può utilizzare nelle due posizioni nei due fronti tutto questo ci consentirà anche se abbiamo un piccolo spazio espositivo a casa di poterla usare in una sala piuttosto che un'altra con uno spazio aperto in questo caso sulla destra o con uno spazio aperto in questo caso sulla sinistra una finestra su questo lato che porta la luce uno scrollettino se lo vogliamo mettere ma anche un dipinto o qualcosa in base alle persone che ospitiamo o in base a quello che vogliamo esprimere o che la nostra sensibilità ci spinge ad esprimere in quel determinato momento possiamo utilizzare anche tantissimi dipinti ma sia giapponesi che anche roba che riusciamo a fare noi semplicemente anche con una matita o un piccolo acquerello quindi questa pianta ci permette di giocare tantissimo cercare la nostra i nostri sentimenti la nostra sensibilità e hai avuto una giornata pesante e oggi ho voglia di leggerezza ho voglia di allora prendi la tua piantina la pulisci la curi bene la irrighi se c'è bisogno la porti dentro casa fai un allestimento e inizi a tirare via tutta la pesantezza del lavoro giornaliero dedicandoti alla ricerca di ciò che hai più necessità in quel momento magari hai necessità di pace di leggerezza di voglia di evadere in base a questo addirittura se hai qua nel fare i disegni puoi realizzare un disegno che si abbini con questa pianta molto leggero con della china tutto ciò è tutto ciò che io in questo momento vi ho descritto è ciò che è il motivo per cui noi ci è uno dei motivi per cui noi ci dedichiamo a fare bonsai fare bonsai non è costruire piante fare bonsai è attraverso le piante costruire noi stessi attraverso le piante l'attività sulla pianta dare a noi quella parte che la vita non ci dà quindi è il nostro spazio intimo nostro spazio di crescita è il nostro spazio di sfogo di svago è il nostro spazio libero che nessuno deve ma soprattutto nessuno può con cui nessuno può interferire questo è fondamentale è il nostro spazio monacale è il nostro spazio di meditazione è il nostro spazio che ci rende la vita più semplice più bella fai la giornata la giornata al lavoro ho una giornata pesante non vedo l'ora e pensi già il pensiero non vedo l'ora di rientrare a casa al mio giardino oggi voglio fare questo oggi voglio dedicarmi ad una ricerca cosa vorrei una ricerca mia personale cosa mi manca questo ci aiuterà anche poi nella vita reale nella vita di tutti i giorni ad avere ad ottenere quello per cui veramente siamo nati ognuno di noi dentro di sé lo sente quindi dedicarci ad esempio ai bunjin in forma bonsaistica poco diffusa perché semplicemente perché si cercano piante potenti piante forti perché perché si sta dietro alle mode in generale quindi devo avere vestiti appariscenti devo avere per quanto riguarda le donne se non ho il seno grosso non va bene quindi se non ho il SUV con le gomme così grosse non va bene se non ho se non sono più in evidenza degli altri non va bene e quindi anche nel bonsai si ricerca la pianta più grossa possibile il vaso più costoso possibile ma la mia ha più ci sono persone che contano le curve a questa pianta qua ha sette curve cioè ragazzi fare bonsai non è tutto ciò quello è mettersi in evidenza fare bonsai non è mettersi in evidenza quella è la parte più superficiale quella è la parte iniziale quando si fa un percorso bonsaistico andate e ricercate maestri che vi insegnino a migliorare voi stessi a stare tranquilli a correre meno dietro alle mode rispetto ad altri maestri che vi spingono a ottenere il massimo nella chioma no ma la mia pianta ha 10.000 foglie la tua ne ha solo 5.000 quindi io coltivo meglio di te non è una gara far bonsai non è una gara quando facciamo bonsai dimentichiamo le gare quando facciamo bonsai utilizziamo le piante la loro eleganza per rilassarci per rilassarci chiaro non è a chi ce l'ha più grande non è a chi ce l'ha più bello ma perché non si fa gara a chi invece riesce a rilassarsi di più e ad essere anche più gentile con gli altri ad essere ad aiutare gli altri su tutti i valori che piano piano stanno svanendo e quindi non va bene che discorso lungo a questo punto io finirei a diretta perché ho detto tanto sul bunjin ma voi tecnicamente siete curiosi allora questi rami dove li mette come li sistema quello che voglio fare io mettere sistemare i rami avendo in questo momento una via di mezzo tra le due cose che vi ho detto quindi qui abbiamo la parte vitale quindi ramificazione non troppo contorta girata abbastanza lineare invece su questo lato abbiamo la parte diciamo dove è più evidente la difficoltà la parte sembra quasi il simbolo yin e yang il bene e il male la vita e la morte questa piatta lo rappresenta benissimo benissimo quindi io cercherò o darò forma ai rami stando in una via di mezzo tra queste due sensazioni in modo tale che poi la potrò esporre sia da un lato che dall'altro dico un'altra cosa perché mi sta piacendo tantissimo tutta sta roba qua dico un'altra cosa che ieri mi è stata chiesta in vendita proprio ieri ma in questo momento ora in questo momento sto decidendo che non la vendo più questa pianta resta come mi piace deciso sto aspettando la risposta dal signore greco che me l'ha chiesta però dopo tutta questa spiegazione io penso quello che pensate voi non la venderei più questa roba qua allora faccio subito una operazione ma non è che mi dai una mano Emanuele che dici eh che dici togliere le foglie faccio subito un'operazione la pianta la defoglio la imposto e sostituisco il vaso tutto oggi la stagione è perfetta per poter fare questa cosa e la mia esperienza mi permette e le tecniche che conosco di coltivazione successivi a questa operazione qua mi consentono di ottenere non un buon risultato non un meglio risultato un ottimo risultato chiaro quindi non è una prova è un qualcosa che io so fare benissimo per quanto riguarda invece un'eofita in questo caso non dovrebbe defogliare metti su il filo sui rami già se riesci a farlo è ottimo metti il filo sui rami fai riprendere tra 3-4 mesi cambi il vaso io ho raggiunto l'esperienza che mi consente di poter fare tutta l'operazione compreso il cambio di vaso contemporaneamente però possiamo fare un'altra cosa perché la diretta si sta dilungando troppissimo potremmo fare un'altra cosa ragioniamo su dove mettere i rami e la diretta successiva parliamo dell'abbinamento del vaso per un bunjin o mediamente per un bunjin poi vediamo un po' di cose l'abbinamento del suo vaso e le operazioni successive secondo me conviene dividerla in due perché mi sono dilugato tanto che ore sono adesso magari lo scrivono o no hai chiuso sì ho sentito qualcosa no non è chiuso però qualcuno scriva si sente l'audio ragazzi perché ho sentito qualcosa nella nella cuffia cosa hai fatto hai fatto qui qualcosa cliccato dove qui ho sentito qualcosa in cuffia Giuseppe Ferrara ciao bello quindi se volete questo olivastro non lo vendo lo teniamo lo teniamo va bene si si sente grazie 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 Sergio Billardello nuovo allora ragazzi facciamo così dividiamo in due tutta questa operazione perché sarebbe parecchio lunga qualcuno mi dice l'orario perché qua non lo vediamo dal telefono Emanuele fammi sapere l'orario piuttosto piuttosto allora linearmente sia che io utilizzi quindi voglio modellare la sua chioma pensando contemporaneamente sia a questo fronte che a questo fronte qua cercando e dando forma ai rami in modo diciamo così leggero in modo leggero abbiamo come? le 11 e un quarto ok abbiamo un quarto d'ora circa ok 11 e 30 terminiamo abbiamo un ramo piuttosto forte che va in questa direzione all'interno della curva quindi sappiamo che dentro le curve ok in questo caso questa regola vale non avere ramificazione dentro una curva più più del solito in questa posizione perché questo spazio vuoto è necessario questo spazio vuoto è necessario alla nostra fase meditativa la eh ma non quello non sono io se si sente attratti è la tua connessione se non capisci qualcosa perché l'hai sentito a tratti sono sicuro che a diretta terminata tu lo riguardi perché lo trovi lo trovi sia sul gruppo indifferita che poi su youtube quando dopo che lo ha trasferito Enzino e lo sentirai bene in genere funziona così anche a me è capitato di sentire a tratti una mia diretta indifferita e poi l'ho ricaricata e si sentiva bene e la cuffia io mi sento bene in cuffia quindi dovrebbe andare tutto benissimo allora parlavamo di questo ramo che va per quanto mi riguarda va eliminato perché sta dicevo all'interno di questo spazio che interromperebbe la parecchio ovunque noi lo mettessimo utilizzando sia questo come fronte che questo lui si trova sarebbe comunque è un elemento di disturbo quindi va eliminato va assolutamente eliminato alla alla base usiamo trocchese così come mio solito lascio un pezzetto ci sono due foglie in questo momento va bene portare così il momento successivo poi si rifinirà la potatura sotto le foglie c'è presenza di fitoregolatori perché la pianta non è coltivata con attenzione si trova in mezzo a la sopra dove ho fatto vedere l'altro giorno con un pianto di irrigazione che a volte va a volte non va l'illuminazione non è perfetta quindi non ha una non ha delle cure perfette e quindi i fitoregolatori che troviamo sotto le foglie sono dovuti al fatto che io non sia perfetto nella sua nel nel fornire le giuste cure alla pianta rametto la base lo elimino qui quindi cosa lasciare cosa tagliare è qualcosa che si decide abbiamo qui un ramo che fa una sorta di ricciolo questa parte qui sarà molto molto come posso dire dovrà essere molto linearizzata diminuita nel secco e nelle sue e nelle sue corve vi faccio vedere da molto vicino perché altrimenti non si capisce distante non si capisce si sente bene matratti una voce cavernosa oggi ho la voce piuttosto grossa sì oggi ho la voce così allora abbiamo una parte viva che è e che fa questo percorso va anche verso su questo tratto è di disturbo su quella curva quindi questo tratto sarà eliminato questa vegetazione ho intenzione di toglierla e lasciare solo questi due rami che stanno nel proseguimento della parte che c'è qua sotto qui c'è qualche altro rametto alla base ok quindi c'è sempre una motivazione per cui elimino per cui elimino quindi anche qua questi per aumentare la linearità per fare un vero bungin dobbiamo essere più etterei più snelli possibile anche questi questo sarà tagliato qui qui lascerò una parte molto piccola di legna viva su questo tratto qua che mi porti linfa a questi due rami chiaro da qua si vede meglio è troppo grosso tutto ciò è troppo grosso troppo impattante proprio anche all'inizio così poteva poteva esserci qualcosa qua sotto alla base ma non ce l'abbiamo quindi vedo devo capire come scorra la linfa su questo ramo qui magari arriva da qua sotto vedi da qua sotto quindi io potrò eliminare diminuire tutta questa parte e lasciarne solo un pezzetto quindi filo sicuramente filo adesso modelliamo e poi in una fase successiva vi faccio vedere questo è un rampicante questa è la vite e sono i non mi ricordo come si chiamano quei ricciolini che fa la vite per arrampicarsi che c'era la vite vicino quindi anche questa è una cosa che poi vedremo e diminuirò parecchio tutta questa parte zona tutta questa zona linea cercando di impattare il meno possibile a livello visivo per poter filare vanno eliminate alcune foglie tra l'altro qui non starò molto dove non starò molto molto lungo con questo ramo e quindi lo accorcio di già anche questo eliminiamo un po' di fogliette per diminuire già ora la traspirazione ma è preparativo perché poi le foglie saranno eliminate tutte la stessa cosa la farò su qui sopra abbiamo la presenza di un ramo già abbastanza spesso due rami di cui uno ha uno spessore elevato nascono sullo stesso punto io sarei sarei propenso di lasciare solo questo fine anche perché ha un andamento verso il basso non vorrei creare un ricciolo troppo grosso qua qui c'è ancora da pulire è inquadrata la parte di sopra Emanuele no così più o meno quindi stavo dicendo qui abbiamo due rami qua c'è anche ancora parecchia roba da pulire abbiamo diversi due tengin secchi cioè due rami secchi che vanno verso l'apice e un altro ramo la cui struttura è caratterizzata da una parte morta e dall'altra viva come tutta la pianta quindi in sintonia quindi qua sarà dovrò decidere quale quale tengin lasciare e se lasciare tengin attenzione perché dobbiamo sempre lavorare cercando di togliere al contrario di come ci viene ci viene inculcato con tutte le pubblicità tutta la tutta nella televisione ad esempio dobbiamo capire esattamente cosa quanto quanto togliere togliere il più possibile quindi abbiamo un gin qui un altro gin qua e poi un altro ramo che sale mezzo secco dove ho vegetazione in questo caso questa vegetazione non sarà posta a controbilanciare non mi piace questo effetto ma sarà modellata in modo tale che poi la chioma scenda verso questa parte qua questo perché questo perché ci serve affinché e comunque alla fine del nostro percorso visivo di osservazione di questa pianta la nostra fantasia voli all'interno di questo contesto sono concetti molto molto difficili da conoscere da esprimere e riuscire anche ad esprimerli sulla pianta su una pianta non è molto facile un qualcosa che si apprende con tanti anni ad avere un determinato approccio con le proprie piante non è l'approccio di chiedere ma è l'approccio di dare quindi non è l'approccio di far gare a chi ce l'ha più grosso ma è l'approccio di cosa posso fare per avere per stare più in serenità con la mia pianta questo anche con l'ambiente che ci circonda quindi un approccio è una forma di ricerca che ci deve portare assolutamente anche ad utilizzare meno come posso dire meno lavoro possibile ma anche meno sostanze chimiche possibili nel mio caso sono ridotte a zero perché non utilizzo fitofarmaci di nessun genere quindi prima abbiamo visto la presenza nelle foglie sottostanti di quel ramo appunto una zanzara presenza di fitoregolatori capendo a cosa sono dovuti allora non c'è bisogno bisogno di utilizzare una magia per farli sparire perché nel momento in cui io mi dedico maggiormente alla pianta dedico maggior tempo alla sua cura e alla osservazione silenziosa e apprensiva nel senso di apprendere riesco a scoprire un sacco di cose di me che non sapevo che ignoravo che la vita di tutti i giorni ci occulta oggi sono molto filosofico ma vista la pianta sto facendo anche un omaggio e la saluto a Rita Rita mi ha detto un ha scritto ieri ma no una diretta sul bongini di olivastro non me la perderò per nulla quindi spero che tu te la possa godere che tu e che chiunque se la possa godere al massimo leggera filatura io questo ramo lo vedo piuttosto rigido perché è parecchio tempo che sta lì quindi vediamo un po' che cosa riesco a fare devo cercare di essere più lineare possibile da qua dovrà scendere verso il basso il suo tronco il continuo questo diventerà il continuo del tronco e sarà modellato poi cercato anche un pochino di secco per stare in armonia con la pianta quindi un discorso piuttosto lunghetto diciamo che una pianta del genere noi otteniamo stranamente il massimo probabilmente in 8-10 anni è strano perché se ne berebbe anche già quasi terminata ma il lavoro molto fine il lavoro certosino di ricerca che possiamo fare da qui a 10 anni ci permetterà di ottenere da noi stessi nei confronti della pianta il massimo quindi diamoci dei tempi rilassiamoci diamoci dei tempi lunghi lunghi cioè e godiamoci il percorso questo è importante godersi la vita e non godersi il traguardo perché tanto traguardi ce ne sono tanti e allora stiamo sempre in apprezzione sul successivo traguardo invece qua no qui sappiamo che più passa il tempo meglio sarà e quindi non c'è la fretta non c'è la fretta di arrivare il risultato sulla pianta ma c'è la consapevolezza e la il benessere che ci può dare di fare le cose calma con calma adesso abbiamo dei dubbi quale dei gin togliere quale dei gin tagliare in questo momento nessuno calma in questo momento non toglierò non taglierò nessuno dei due in questo momento il mio obiettivo è di dare una forma e mettere io immagino un apice quindi un ramo che scende e l'apice verso verso questa zona qua quindi ve lo faccio vedere di lato più o meno in questa zona qua perché poi guardando la pianta anche di questo lato è sempre nella posizione più più corretta dove dove il mio occhio si ferma ma poi continua a guardare tutto il resto questo è importante è importante far volare con la fantasia ma far sì che lo sguardo poi resti qua qua stai qua con calma adesso sei qui e mediti come quando vai su una montagna non vuoi essere da nessun'altra parte vuoi essere lì quindi guardando questa pianta sei sulla pianta sulla montagna e mediti ovviamente subito dopo la diretta la irrigò è leggermente asciutta sicuramente sotto ha ancora una quantità di umidità vitale per la pianta altrimenti avremo dei grossi problemi un po' di filo voglio vedere se questo è molto rigido e ha un'angolazione che non mi piace qua quindi voglio capire se riesco a posizionarlo come si deve senza senza rovinarlo senza rovinarlo vediamo vediamo tronchese per filo ah no erano per i rami non volevo ripassare davanti alla abbastanza grossetto questo filo vediamo se riesco a posizionare ora tra l'altro anche spieghiamo sempre come dico sempre una cosa sulla filatura avvolgiamo il filo sul ramo in base anche ai movimenti che vogliamo dare al nostro al nostro rametto bisogna essere molto delicati non schiacciare gemme non schiacciare rami filo abbastanza grosso perché perché non voglio che poi resti alcun segno del filo perché questa pianta sarà coltivata lentamente quando coltivi lentamente le piante poi i rami non cicatrizzano facilmente tutti i segni che noi andiamo ad imprimere restano se coltivi lentamente e quindi sarebbe poi abbastanza brutto su un bunjin vedere i segni a differenza di piante che noi facciamo come posso dire andare al galoppo possiamo fare possiamo dare una far fessurare i rami dal filo perché al contrario poi col tempo si creeranno delle cose che noi non stabiliamo quindi delle irregolarità imprevedibili e vanno ad arricchire vanno ad arricchire il tutto qua posso ancora sfruttare il pezzetto di filo con le pinze quindi ora siccome voglio che si faccia questo giro qui ho particolarmente ho messo il filo molto bene sulla base del ramo in modo tale da poter prime pieghe osserviamo osserviamo da tutti i lati già ci sta però sono distante rispetto a quest'asse perché se voglio usare anche questo come fronte sono troppo in avanti di qua se volessi usare solo questo fronte solo questo come fronte questo qui sarebbe anche buona come posizione ma siccome voglio sfruttare anche questo come fronte cerco di stare un po' più in linea qua e poi sfrutterò qualche rametto per avere qualcosa che mi interessi là dietro è tutta una ricerca è tutto un gioco che noi che durerà tanti anni in cui noi cercheremo almeno io cercherò di avere questa doppia double face questa doppia faccia questa doppia personalità è sempre lui ma con una personalità ben specifica ora qui e vai piano si lanciano tutto ciò che faccio la cosa bella è quello che faccio oggi è nulla di definitivo chiaro quindi sempre ci serve per rallentare per respirare calma eh c'è caldo hai visto c'è caldo grande escursione termica in questo periodo è quindi ottimo per la coltivazione qui semplicemente due pezzetti di filo quindi è più un qualcosa di concettuale che è lavorativo è un lavoro è un atteggiamento che dobbiamo avere di ricerca e il bungee ci serve per cercare quella parte di noi che viene ripeto assopita quella parte di noi che non deve primeggiare che non deve fare gare qui c'è qui c'è un un rametto che mi impedisce quindi tutto tutto questo ci serve per rimettere in in sesto le nostre sensazioni inizio già a togliere qualcosa che tanto andrà via perché come vi dissi qua io voglio siamo anche abbastanza in basso quindi per altre tra virgolette regolette dobbiamo avere meno zero gin possibilmente ma solo shari da mettiamo il filo qui con un po' di attenzione hai fame Emanuele un po' ma che strano bambino di 10 anni che ha quest'ora fame ma che strano allora anche qui sono obbligato a tagliare in questo momento per poter mettere correttamente il filo ma ci sta è giusto quindi come vi ho detto poc'anzi cerco in questo momento curve leggere diamo curve piuttosto leggere col tempo si possono amplificare e ampliare sempre come dicevamo prima in base alla sensazione che vogliamo dare ok lo taglio perché che c'è mi sto portando appresso tutta la matassa non ridere vabbè se ti dicono ridere ovviamente ridi di più allora con molta delicatezza così come si dovrebbero trattare come ci dovrebbero questa la dico non è politica come si dovrebbero trattare tutte le donne soprattutto quelle afghane con molta delicatezza ho visto che hanno dei capelli bellissimi io farei farei andrei a fare parrucchiere in afghanistan ma solo per un motivo per pettinare quei bellissimi capelli qui c'è un rametto che ho lasciato di riserva ma le curve che ho dato non sono estreme l'ho lasciato di riserva solo per mettere il filo e applicarlo su questa ramificazione siccome è andato tutto bene glielo avrei tagliato prima ma questo serve a voi abbiamo due rametti e siccome è andato tutto bene lo possiamo eliminare chiaro? è chiaro l'ho lasciato perché voi dovete fare così diamo un po' di forma qui e tutto è leggermente contorto quindi è già contorto di suo qui andrà via come ho detto prima parecchio materiale lo facciamo la prossima volta diamo solamente una posizione diciamo che cerchiamo un po' di spingere un po' verso il basso e un po' verso questo lato di conseguenza abbiamo un ramo più basso un ramo più in alto quindi questo ramo che andrà a scendere questo ramo che va verso il basso anche qui ho protetto col filo piuttosto bene possiamo anche andare leggermente contro così 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 qui potremmo creare così ok ci siamo tanto è quasi finita questa parte questa parte questa parte allora qui abbiamo un rametto che fa davvero tanti giri interessanti stiamo guardando su questo lato giusto dobbiamo guardarlo anche da questo lato giusto quindi nel momento in cui noi utilizziamo utilizzeremo questo come fronte un po' di vegetazione ci serve anche di qua quindi andiamo su questo ramo questo ramo c'è utile come verde da questo lato qua questo ramo lo utilizzeremo anche come verde presente e visibile visibile dall'altro lato senza e la ricerca e la difficoltà sarà quella che non dovranno sia utilizzando un lato che l'altro dovranno essere discordanti sono abbastanza accordanti ok sono abbastanza accordanti per oggi la diretta è terminata siamo un pochettino sforato vi faccio vedere solo una cosa grazie Biagio Cirillo guarda la naturalità del del suo secco ha un secco bellissimo tutto naturale senza aver mai dato liquido gin guarda questo gin naturale che prende una forma veramente come se l'abbia progettato Kobayashi questo guarda guarda dove è lì sta vicino al tronco è discreto è un gin forte potente ma è discreto guarda qui bisogna dare una pulittina ma non lo farò bisognerebbe darla e poi la zona basale bellissima col suo shari giusto e anche qui abbiamo piccolo gin che dovrebbe essere per la regola eliminato ma noi abbiamo questa pianta per non seguire le regole chiaro? grazie di tutto è stato molto molto bello oggi poter fare questa diretta grazie